Ci mi è venuto in mente di creare per il canale una cosa che forza a voi piacerà o non piacerà o non lo so Allora, preparare dei file con dei documenti google dove voi andrete su questi file, sul link che vi lascerò in ogni descrizione di un video Voi dovrete cliccare su quel file e praticamente si aprirà una pagina dei documenti google dove direte qual è il vostro gioco Brawl Stars, Brawl Stars Box Opening e basta O Brawl Stars o Brawl Stars Box Opening oppure Fortnite, queste tre cose Voi poi dovete mettere il link del vostro video che avete pubblicato su youtube e poi inviarmi quel file Una volta che me lo avete inviato io prenderò il video, il link del video e vedrò la vostra clip E poi pubblicherò su youtube reazioni alle vostre clip Ok ragazzi vi piace questa idea fatemelo sapere nei commenti o lasciando un bel like Ok Grazie